buongiorno amici di pillole inizia un altro weekend ed eccoci a milano finalmente siamo qui innanzitutto per vedere stasera la partita il derby d'italia inter juventus la partita delle partite stasera speriamo che vada bene e quindi c'è questa grossissima rivalità anche in casa praticamente lui non lo sa ma io ho girato ambrogio dovete sapere che io sono molto scaramantico a casa ho un coccodrillo ambrogio del simbolo dell'inter che praticamente non posso toccare prima di ogni partita se l'inter va bene io lo devo lasciare nella stessa posizione appena va male lo giro però se lo giri prima succede è un disastro io l'ho girato perdi bella madonna posso fare un pronostico? il pronostico di stasera è 1 a 0 non c'è di guai beh andiamo allo stadio bene Felix siamo qui allo stadio di San Siro per vedere la partita ma domestica il pallone alto traversione cercato un colpo di testa che non arriva Douglas Costa stato attuale stiamo vincendo stiamo vincendo mi spiace perché anche io cartellino rosso rosso vabbè in 10 si gioca meglio adesso siamo qua dentro la sala esecutiva dello stadio di San Siro qui praticamente siamo in campo adesso andiamo a mangiare vediamo che cosa ci offrono sta la lasagna Drafigna va a CanSero con il destro in aria Icardi la lasagna ha portato bene il pallone è entrare in aria il pallone è entrare in aria Piedici dentro è solo 2 a 1 non parla più non parla più non parla più stessa la lasagna a tirare la camicia la 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 lai per quadrato che cerca il costetto trova il gol Di balla batte, il calcio di punizione, cerca un colpo di testa e Guaino! Sì, 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 sì! Vai a lavare le mutande! Ragazzi la partita si sta complicando perché stavamo vincendo, adesso è una burra, non avanza nessuno. Fischi è orzato! Fischi è orzato!